Dopo anni di attesa partirà dal lungomare la riqualificazione urbana dell'area di Sant'Elia. I lavori saranno avviati tra circa un mese per concludersi entro l'ottobre 2013. L'avvio dell'opera è stata presentata questa mattina dal sindaco Zed e l'assessore lavori pubblici Luisa Anna Marras. Il tema che noi stiamo cercando di affrontare è che nei mesi da quando siamo stati insediati, quindi da poco più di un anno, è stato quello di recuperare progetti, fondi, risorse, soprattutto a valere sulla pianificazione strategica comunitaria per non perdere un euro rispetto ai bandi POR. In questa direzione abbiamo salvato più di 150 milioni di euro di finanziamenti che ormai erano quasi persi, erano dati per persi perché andavano in definanziamento. Quindi sindaco possiamo affermare che la riqualificazione del lungomare è solamente il primo passo, la prima tappa verso quella che sarà la riqualificazione dell'intera area di Sant'Elia? Dell'intera area di Sant'Elia con occasioni di lavoro spediamo, perché l'idea è quella di collegare il lungomare del Poetto, che ci auguriamo che possa partire entro l'anno prossimo, dentro i primi mesi dell'anno prossimo, con il lungomare di Sant'Elia che partirà qua dall'Azzaretto fino al canale di Taramaini, al padiglione Nervi, dove è sufficiente realizzare un ponte per collegare questa parte del lungomare fino alla via Roma. C'è chi da tempo attende la riqualificazione del lungomare, molto frequentato anche da famiglie abitue della zona. È abbandonata, è curata solo da qualche signore che si mette con un rastrello, infatti se andate più avanti si fa una spiaggia personale, porta l'attrezzo e no, però è abbandonata. Quindi polizie fai da te? No, hanno messo da diversi anni questi cassonetti e basta. Abbiamo già una data o comunque un periodo approssimativo per cui sono previste l'avvio proprio dei lavori del cantiere? Noi oggi stiamo presentando non l'idea progettuale, perché altrimenti avremmo perso quelle risorse. Il progetto doveva essere approvato entro il 31 dicembre del 2011, quindi già mesi e mesi fa. Per cui oggi stiamo presentando e di fatto lanciamo l'apertura del cantiere. È uno degli elementi che consentirà uno sviluppo e un collegamento fisico con un quartiere che oggi è anche fisicamente separato dalla città.